Gentili telespettatori buona giornata sondaggio Ipsos di oggi 27 aprile del 2022 su il gradimento dei leader in testa ci sarebbe Roberto Speranza il ministro della salute con il 35 per cento mentre Giorgio Meloni avrebbe perso addirittura quattro punti percentuali quindi il ministro della salute il più amato dagli italiani io personalmente non ci credo poi voi poi segue Giuseppe Conte al 34 per cento in leggera flessione meno 1 per cento Matteo Salvini perde tre punti percentuali ed è al 23 per cento superato da Silvio Berlusconi povero Silvio l'ha fatto per noi che al 26 per cento più 1 per cento prima del fondatore di Fratelli d'Italia c'è il segretario del PD Enrico Letta quota 27 per cento in calo di due punti percentuali grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata ci vediamo tra una ventina di minuti per un altro video